Nella lezione numero 21 per il folk elettrico continuiamo il nostro lavoro sulla melodia sui bassi. Melodizzare i bassi intanto che si accompagna con la mano destra sugli accordi e quindi le parti alte della chitarra. Questa volta aggiungiamo un motivo in più di gradevolezza nell'accompagnamento. Abbiamo inserito un pianoforte che ci dà un'impressione ritmica un pochino più completa e complessa. Concentratevi bene sulla parte ritmica e cercate di non perdere il tempo, mi raccomando. L'esercizio è il numero 26. Nella lezione numero 22 per il genere folk proseguiamo con il lavoro di melodizzazione dei bassi alternati. Intanto che facciamo gli accordi con la mano destra e aggiungiamo due nuovi accordi, il La minore settima e il Mi settima. In queste posizioni La minore settima. Il Mi settima. Oppure. Bene, l'esercizio è il numero 27. La minore settima. Grazie. Grazie a tutti. La minore settimana.